Musica Eletto prodotto dell'anno 2022 è il premio dell'innovazione basato solo ed esclusivamente sul voto dei consumatori. Quindi se siete qua vuol dire che avete spaccato. Musica E andiamo avanti con Stefan Conrad, direttore generale di Verisure per Verisure Telecamere Intelligenti Full HD collegata a Centrale Operativa H24. Grazie. Buonasera a tutti, noi siamo veramente molto contenti di aver vinto questo premio. Questo premio nasce dall'ascolto dei bisogni dei consumatori e per quello è veramente importante per noi aver arrivato questa premiazione. La nostra mission di Verisure è veramente offrire ai nostri clienti un'offerta di alta sicurezza che combina l'alta tecnologia con un servizio di centrale operativa certificata. Vorrei ringraziare a tutti i consumatori che hanno fatto possibile questo premio e anche ai nostri 200.000 clienti che hanno fatto la scelta di Verisure. Grazie. 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 Grazie.